Sì, oggettivamente ieri intorno alle 14 sono stato convocato con una richiesta del sindaco appunto di convocare un consiglio d'urgenza. Ricordo un po' ai telespettatori che il consiglio d'urgenza è un consiglio che viene fatto in unica convocazione, entro le 24 ore dalla convocazione. I motivi, se ci sono di urgenza, giustificano evidentemente questo consiglio con queste modalità. Abbiamo provato a trovare un orario condiviso un po' da tutte le parti, non ci siamo riusciti subito e dunque mi sono visto costretto a convocare una conferenza dei capigruppo che abbiamo tenuto ieri sera, dalla quale poi è emersa un po' l'esigenza oraria e anche di inserire all'ordine del giorno un argomento in più rispetto a quello che era stato indicato dal sindaco. L'unica cosa che ho bacchettato un po' all'interno del gruppo è stato il fatto che spesso e mai come in questi ultimi mesi stiamo facendo ricorso al strumento della convocazione straordinaria. Dico questo perché? Perché evidentemente questo non giustifica una sofferenza che gli uffici, forse per loro organizzazioni, carenza di personale, non riescono a mettere in campo affinché queste attività si svolgano in un periodo utile a poter convocare un consiglio ordinario. E dico questo perché spesso anche le minoranze non sono messe nelle condizioni in 24 ore. Tu ti immaginerai un consiglio comunale convocato di venerdì pomeriggio con gli uffici chiusi, il lunedì c'è il consiglio, i documenti non sono reperibili perché non sono reperibili verso gli uffici e dunque diventa poi complicato anche per la minoranza svolgere il proprio lavoro. E questo onestamente non è un sintomo di una buona democrazia o una democrazia che funzioni e che dà a tutte le parti la possibilità di svolgere il proprio ruolo in maniera autonoma, indipendente e libera. Sarà il vostro primo consiglio dall'altra parte della barricata. A tal proposito, come consiglieri di minoranza, qual è la vostra posizione su questi argomenti? Avete già assunto una posizione che sia critica o voterete approvando? Avremo il tempo che ci rimane, lo utilizzeremo per poter approfondire meglio gli argomenti posti sul tavolo e valuteremo poi al momento.